Il gruppo consigliare Uniti per Carlopoli e Castagna, costituito dalla sottoscritta Emanuela Talarico e dai colleghi consiglieri comunali Salvatore Aiello e Carlo Sacco, ha deciso di organizzare un'iniziativa per la presentazione del libro di Antonio Chefallo, al quale siamo legati da profonda amicizia e stima. Nel libro l'autore descrive dal punto di vista personale come ha vissuto quegli anni in cui il padre fu coinvolto nell'inchiesta giudiziaria a mani pulite, quindi un figlio consapevole dell'innocenza del padre. Il contenuto del libro è importante perché pensiamo a quanti non hanno retto, a quanti suicidi ci sono stati e per questo che ci auguriamo che la lettura del libro funga da monito ancora in questo tempo, perché in quei tempi hanno condizionato pesantemente il nostro e ancora non sono molto lontani. Come luogo di svolgimento della manifestazione abbiamo scelto l'anfiteatro posto in Piazza Brutto, quindi nell'area più antica di Carlopoli, ma ormai sopraffatta dal degrado e dall'abbandono. Quindi speriamo, ci auguriamo che oggi con questa iniziativa possiamo rianimare quest'area. Vi ringraziamo per la presenza e un saluto ai vostri telespettatori. Grazie a tutti.